Cristian? Eh! Cristian? Cristian? Sì? Cristian? Sì? No, noi non abbiamo il microfono, non ti posso giudicare. Cristian? Ciao a tutti ragazzi, oggi facciamo un video con i miei fans su Fortnite, questo è un minigio. Cristian? Cristian Pro. Ciao Cristian, cosa fai? Sto giocando con i miei fans. Sento che ti sto chiamando, ma noi purtroppo non abbiamo il microfono collegato oggi. Lo procurerò e te ne informerò una Cristian. Stai vincendo? No, è appena iniziato. Allora, cos'è che devi fare? Devo sopravvivere, io mi sono già incastrato, quindi lui non mi potrà vincere. Stiamo giocando con, anzi stai giocando contro il mio C-Max 9. È anche un altro che si chiama Forza e qualcosa. E dov'è? Non lo vedo. Eh no, è appena... Ah! Oh! La Tomy Gun! Tomy Gun! Anche un cecchino, è anche delle granate. Allora, vince chi sopravvive? Sì, è che uccide tutti. Questo è un minigio, stiamo tutti contro tutti. Una Tomy Gun! Chi conosce la Tomy Gun mette nei commenti un emoji di qualcosa. Ma come? No, è sbagliato, è sbagliato, è sbagliato, è sbagliato! Perchè? 5 minuti! Rientra, rientra! Ah! Sono morto. Perchè? È l'unica cosa che potevo fare, quello mi prendeva! Porto rami! Sì! Quindi no! Armi? Allora, abbiamo questo qui, no, è forte. Questo è forte. Questo è leggendario, quindi è fortissimo. Anche uno slurp. Che deve essere appunto lì. Allora, prendiamoci anche un fucilato a Forza. Sì, loro sono ancora giocando la Plessa, giocando con Edoardo. Cos'hai detto? Stiamo giocando alla Play. Allora, non mi ero uscito. Ah, ma, ma, ma! Mi sta vassoccolando! È dentro quella casa. Eccolo solo! Dai, prendilo! Sparami! No, non finisci le cose! Sì, è ucciso! Bravo! Una kill, una kill, una kill. Quanti ne sono rimasti? ancora uno c'è ancora uno c'è ancora uno sono avrei già vinto da qualche parte non è che l'ho visto dal cristian o un cuore se mi colpisce al suo morto mi colpisce da noi dove non lo lì sulla torre mi ha massacrato genoa dove sono un tifoso del genoa ci sono dieci round allora un po un pa leggendario prendiamo tutto va io con i cittadini sono fortissimo te lo posso dire sono fortissimi forse mi vanno male così io faccio questo che mi ritiene allora io so dove sono quindi sto giocando sulla play dovrei fare anche una protezione qua cosa stai facendo e ha sbagliato sono lì sopra io so ma di però questa un colpo e funzionava un colpo se voglio vincere ricarica nel distrutto notte no dai distruggiti tutta la costruzione ma quella che è difficile allora ricorda noi vedi non è difficile non ce l'hai una granata no e lo sprecato non mi è uscito vedi se li distruggo ricreano ricreano secondo me dovresti attaccarlo da dietro entra nella torre lo prendi di sorpresa vabbè va beh va beh dai entra nella torre devo far veloce devo staccare questo prima che ne vieni la zona dai dai lo prendi di sorpresa sto dietro ma guardate questi qua mi vedo c'è qualcuno lassù che costruisce ok dai mozzi e foster però ho fatto una kill con mozzi testo round armi armi ma anche uno sburbo lo scala è forte allora sono anch'io bisogna costruire tanto ma io so che se ti fai una torre verso l'alto l'ho visto l'ho visto la visione come questa io so dove sono no ma poi la posso distruggere guardali dove sono guardali guardateli adesso vado no è morto è morto si uno è morto mi trovo in quanti siete rimasti in uno no in due eccolo da dietro adesso guarda dai 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 no indietro indietro non ti vede da dietro 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 nooo mamma mia stia difeso bene è guarda che ci si sbaglia di più ci voglio dove è finito eccolo adesso mi prende le spalle o scende o mi prende le spalle o scende o mi prende le spalle o scende o mi prende le spalle aia da dove da dove aspetta che mi bello eccolo dai però nooo ti ho preso si io sto giocando sulla ps dove un secondo eh ma forse ha fatto già quattro ha quattro vittorie in carriera io ho una settimo lounge la finale se la vogliono vincere tutti questa volta non mi è uscito anche degli scudini oh uno è saltato ecco lassù eh ma guarda che difficile guardalo va sempre sulla torre eh si perché sai che vince chi sta più in alto sei in alto eh ma così sei unito un altro al minimo gioco allora guardali allora ma ma perché mi sei sempre in alto vai però mi fanno vai però mi fanno ok 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 ah non ho capito dove sono a filo io so dove sono 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 ma e cosa fai lì? che piccola campagna sì 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 l'arrivo è da sotto ti ho idea eccolo è caduto è qui no avevo un tattico avevo un tattico avevo un tattico contro un mitragliatore un mitragliatore un mitragliatore un mitragliatore un mitragliatore vince vince il tattico verità il tattico spara più proietti invece l'intragliatore spacca no spara raffica ma vi sconfitta sempre forza forza Genova è fortissimo allora cosa mi è uscito un tattico adesso si che le distruggo uno scarro e anche un fuccillo a ciocchino però il tattico è più forte io vado sempre con il cuocciato che non si vede mai così passo dalle ombre e se uno è qui allora dov'è? 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 il tattico dai però è il corvo il corvo non è un corvo si ma si rifugia lì dentro ma non è possibile c'è allora adesso devo vedere la partita ok così vanno adesso sono loro che giocano? si io li devo guardare quanti sono? ehm ne ho ancora due no adesso manca uno ha massacrato ehm guarda che loro sono un po' forti e anche io sono forte perchè una volta ieri sera io ho giocato a una partita con un cecchino e poi mi fanno in un cecchino PUM ed è morto perchè il cecchino che ha un colpo è fortissimo si distrugge già quindi se facevo così vanno male proprio a un cecchino i cecchini sono forti ti vincere la qui? ehm vince la qui chi è? ah no vince vince quello no adesso i sott'inquattro adesso PUPIZZO ti puzzo entrato e le granate impulso quando comodo allora sento dei colpi e anche io quanto senti dei colpi ah dai ti sparano ti sparano vabbè? PASTA TUPE! vaiiii dai hai vinto dai ma no sempre lui ultimo round adesso io faccio una cosa dai cerco di vincere l'ultimo ma guarda che difficile così stai facendo una barriera? si con le piaccole dai però era lì si adesso io la mettevo e guarda che mi distrugge pure le trappole è sempre il solito eh? come si chiama questo? rocchetto rocchetto 0 4 2 3 0 8 sempre il solito cioè io stavo cercando io volevo fare una cosa che poi loro distruggono così entrano io lo mettevo sopra secondo me secondo me era la cosa utile BOOM ma come non ha sparato? poi si è fatto male da sopra e dice dai vediamo se lo becca lo vuole beccare con il cecchino il cecchino è forte e perché stare lì? oh ha la cappa che avevo io eh ha la cappa adesso guarda come lo prende ha anche le granate in pulso che sono utile perché così se te le metti sotto i piedi e ti rimbalza via così farlo poi sai perché hanno deciso di fare questa mappa ok vogliono vedere quanto sono fatta io ah io sono pescato vai con la cappa ho 76 di vita le ho tolto tutto il scudo ah c'è la tempesta che si sta restringendo sì quindi sono 1 contro 1 chi ha vinto? sono te lui è lui chi? sconfitto abbiamo perso no hai perso vabbè io ma facevo il tifo per te guarda oh posizione fin era al 4 va vabbè è la notte 4 sei arrivato 4 vabbè spero che per questo io sia piaciuto ciao ciao